...di strappare quella coppa dalle mani dei concorrenti di Avella e riportarla in Sardegna a Sant'Antinio. Sei concentrato? Non è che tu sei anche musicista, quindi magari hai un senso del tempo particolarmente spiccato, no. Sono un ballerino. È un ballerino! Forse potrebbe essere quello, no? Quello aiuta, a volte aiuta. Allora, Eras, mi raccomando, concentrati, sarai tu tanto a dare il via al tempo quando premerai il pulsante per la prima volta. Quando ti senti pronto premi e cominci a contare. Dopo 30 secondi, con massimo due decimi in eccesso, dovrai fermare il tempo. Quindi può andar bene 30.1 e 30.2. Quando vuoi puoi dare il via. Partito. 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 Grazie a tutti.